ciao buongiorno signor giancarlo pronto il signor luciano ciao sono riccardo orsolini del bologna la disturbo piacere mio guardi so che vive da solo allora ho pensato di farle un saluto sono marco di vaio del bologna allora le volevamo fare un po di compagnia e portare il saluto da parte della società pronto mi sente mi sente luciano pronto bene buongiorno signora sono andrea poli sono un giocatore del bologna come va molto difficile anche se è un momento difficile di che sono sono preoccupato per quello che sta succedendo nel mondo in italia io che sono brasiliano anche in brasile però sono molto fiducioso e credo che presto che presto passerà questa cosa grazie tutto a posto anche voi anche voi ci mancate pronto simonetta ciao sono riccardo orsolini del bologna ciao come stai tutto bene tutto bene so che vive da sola e allora ho pensato di farle un saluto se le fa piacere grazie grazie sei in isolamento anche te eh sì sono a casa anch'io con la mia ragazza e qua un boccetto di vino se lo fa come sta tutto bene che fa a casa io adesso sto mangiando i tortellini ah bene vabbè non sconfiggere il virus eh per forza sto facendo il ragù poi ho le fragole vabbè anche io ho fatto il ragù oggi faccio due lasagne con la mia ragazza due lasagne bravo 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 mi diletto in cucina ti piace quest'anno andare allo stadio ti stai divertendo io ci credo molto in questo problema mi ha messi un napolo ringrazio di fuori no ci mancherebbe ci mancherebbe signora per così poco ci mancherebbe se questi giorni magari che siamo tutti a casa questo è il mio numero se hai bisogno qualche giorno di farti un saluto magari fare due chiacchiere volevo dire che ci sono e a presto ci rivedremo nell'istadio speriamo di rivederci allo stadio il prima possibile va bene buona giornata salve arrivederci ciao ciao importante che stia bene che stia bene sto bene speriamo di uscirne presto tutti quanti vi vogliamo bene veramente il Bologna è nel cuore nostro voi giocatori che siete bravi veramente veramente non ho parole non ho parole è stato un piacere signora un piacere fatto mio grazie grazie di cuore un abbraccione arrivederci una mattatona anche a lei grazie arrivederci